Ottimo, una bella riflessione la tua, ovviamente siamo d'accordo sul fatto che il risveglio è una questione personale, cercare di aiutare la divulgazione, di far conoscere, però se uno non ci riesce, nel senso che da un'altra parte, pazienza, ne prenderà le conseguenze. Scusami Enzo, è un po' come pretendere di essere laureati all'università senza studiare perché vogliamo bene il professore, ma il professore dice ti ringrazio che mi vuoi bene ma sei un somaro quindi ti devo bocciare, questo è il discorso. Allora senti, tra i tanti segni e poi più avanti ci torneremo sui cerchi nel grano o crop cycle, ci sono appunto questi importanti passaggi dell'umanità, tra l'altro anche dei partiti cosmici, perché sono loro che lasciano questi messaggi. Dico, ovviamente c'è una fabbrica di fake news, giusto per tornare ai media, molto fiorente, che non è solo la fake news in se stesso, ci scredita. Ecco, ci sono in giro ad esempio delle voci sui cerchi nel grano e la gente comune è abituata a farne di tutta l'erba un fascio. Vorrei che tu spiegassi per bene che insomma ci sono cerchi e cerchi. Assolutamente sì, prima di entrare nel merito del fenomeno però vorrei ricordare o dire a chi non lo sapesse che il primo disco volante recuperato dagli americani è dattato 1941. Quindi non è quel famosissimo evento a Roosevelt del 1947 che ci indica la prima volta in cui il potere statunitense viene a contatto con manufatti di origine extraterrestre. Abbiamo oggi documenti militari desecretati che dimostrano inoppugnabilmente che nel 1941 e nel 1942 furono recuperati degli oggetti. Questo diede luogo poi nel 1947 da parte del Presidente Truman della creazione di un gruppo elitario super segreto chiamato Majestic 12 o Majestic 12 in italiano che suona un po' come i Magnifici 12 o i Magici 12. E questo gruppo super segreto, di questo gruppo ne facevano parte alcuni tra le eminenze più importanti dell'epoca a livello militare, politico, scientifico ed intelligence. E il compito di questo gruppo scritto in questi documenti era quello proprio di occultare, manipolare e dirigere tutte quelle operazioni volte a distogliere e annegare all'opinione pubblica mondiale il fatto che eravamo visitati, che siamo visitati da civiltà extraterrestri. Questa macchina del fango, del discredito, dell'occultamento è operativa fino ad oggi. Infatti io sono rimasto molto stupito quando nel dicembre del 2017 il Pentagono attraverso il New York Times ha fatto quell'annuncio. È una cosa clamorosa che rompe 70 anni di azione assolutamente negativa nella rivelazione della verità sulla presenza extraterrestre. Quindi siccome il fenomeno dei cerchi nel grano è un fenomeno non occultabile perché è un fenomeno che si manifesta con dimensioni enormi fino anche a 90.000 metri quadri nei campi inglesi di grano ma anche di altre culture orzo, mais eccetera allora la macchina del fango si è messa in moto con gruppi di falsari che hanno creato dei falsi cerchi nel grano. Ma io vorrei ricordare agli amici ascoltatori il falso è sempre la copia malfatta posticcia del vero. Perché se non c'è l'originale da falsificare non può esserci il falso. Quindi se non esistesse il fenomeno vero non ci potrebbero essere i falsi cerchi nel grano. Sarebbero figure disegnate nei campi di grano inglesi o da altre parti del mondo, anche in Italia, da artisti o pseudotali che si divertono a rovinare le culture dei contadini. Quindi il falso cerchio nel grano esiste come copia del vero, ma non perché esistono le false borse di Vuitton o i falsi abiti di Armani, allora non esiste il vero albito di Armani o la vera borsa di Vuitton. Sono strumenti di marketing peraltro, insomma, perché sono anche diventati... Certo, quindi il fenomeno dei cerchi nel grano è stato ferocemente attaccato perché non era occultabile in quanto appunto appariva con dimensioni enormi e con contenuti simbolici anche di tipo matematico, geometrico, scientifico, eccetera, eccetera, assolutamente straordinari. Ed è stato un tentativo, uno dei tanti, forse il più clamoroso da questo punto di vista, utilizzato da questi esseri cosmici per parlare al mondo. non hanno ottenuto forse quello che speravano, però di fatto milioni di persone si sono rese conto attraverso questo fenomeno che c'è qualcuno che ci dà dei messaggi. Io sono stato varie volte in Inghilterra per studiare in vivo il fenomeno, ho avuto modo di parlare con i proprietari dei campi di cui alcuni erano assolutamente nemici e anche impauriti dal fenomeno, altri invece erano contenti e comunque... diciamo, non negativi rispetto a quello che era accaduto nei loro campi. Quindi il fenomeno è assolutamente reale, è un fenomeno di comunicazione attraverso il simbolo.